Presidente Picarone, giunge all'esame della Commissione il collegato alla stabilità regionale 2021, quali sono le principali disposizioni di questo provvedimento? In effetti sono innumerevoli, noi abbiamo approvato con grande celerità la legge di stabilità e collegato alla legge di stabilità che l'aggiunta licenziata a dicembre in genere viene affrontato in primavera, abbiamo avuto un lungo periodo che ha consentito ai colleghi di presentare oltre 250 emendamenti, questi emendamenti sono stati tutti quanti vagliati, ce n'erano di ordine normative e anche di spesa, abbiamo per la verità razionalizzato molto, siamo arrivati da una proposta di spesa di 50 milioni e abbiamo ridotto a una decina di milioni in tutto, quindi c'è stato un grande lavoro di razionalizzazione, però è stata anche un'occasione per completare la programmazione regionale e consentire di completare tutto il lavoro finanziario che interessa l'ente. Dentro ci sono norme importanti che riguardano varie categorie, norme ambientali, norme che riguardano il sistema idrico, norme che riguardano il commercio, gli ambulanti, il turismo, i distretti, poi ci sono anche delle scelte di razionalizzazione importanti su società regionali, è un provvedimento da guardare in tutte le sue angolazioni, c'è stato un grande lavoro del Consiglio regionale, c'è stato anche un grande lavoro della Commissione a bilancio, adesso andiamo al vaglio della Commissione, quindi dell'Aula, per vedere quale sarà il provvedimento definitivo. La Campania, un po' come tutta l'Italia, attraverso una fase difficile dal punto di vista economico e stiamo uscendo finalmente dalla pandemia, ma ovviamente le conseguenze sul piano economico ed occupazionale sono abbastanza drammatiche. Che cosa ne pensa delle decisioni del Governo in merito al blocco dei licenziamenti? È stato trovato una soluzione di compromesso perché è stato detto che i datori di lavoro che accedono alla Cassa Integrazione non possono licenziare, liberando la possibilità di licenziare per gli altri. Ovviamente è una decisione che non si può prendere a quel leggero perché in questa fase da una parte ci sono le ragioni del lavoratore perché la crisi economica ha fatto saltare gli equilibri economici per parecchie aziende, quindi il mantenimento occupazionale è una forzatura però il posto di lavoro è un bene preziosissimo in questa fase. Dall'altra parte la libertà del datore di lavoro di non licenziare rischia di compromettere gli equilibri aziendali. Mi pare che la soluzione di compromesso che sia stata adottata sia la più lungimirante possibile perché non è giusto in questa fase che dà la possibilità al datore di lavoro di accedere alla Cassa Integrazione senza pagare oneri al proprio carico che poi possa anche licenziare. E dall'altra parte però è bene anche che il mercato comincia a muoversi sulle sue gambe altrimenti si droga una situazione che non verrà mai fuori da questa impasse. La regione Campania è tra le regioni che ha il maggior numero di percettori del reddito di cittadinanza. Che cosa fare per cambiare definitivamente le politiche attive per il lavoro? Ma su questo il Presidente De Luca è stato molto chiaro. Ha fatto una proposta che vuole portare all'attenzione del Governo. è una proposta intelligente perché si è reso conto proprio aprendo un centro vaccinale in agricoltura che è un settore molto sensibile da questo punto di vista ma ci sono tanti altri settori, la ristorazione, i bar, le altre attività manifatturiere si è reso conto che molta mano d'opera non si recluta più, non c'è più, c'è penuria di mano d'opera perché la gente preferisce prendere il reddito di cittadinanza e non andare al lavoro in qualche caso. La proposta di De Luca è quella di consentire ai datori di lavoro di dare una quota aggiuntiva al reddito di cittadinanza sensibile di almeno 500 euro in più che consente di guadagnare uno stipendio più decoroso. Se uno prende un reddito di cittadinanza di 700 euro e può arrivare a uno stipendio di 1.200 gli si fa un'offerta di lavoro che conviene al datore di lavoro e conviene pure al lavoratore se si rifiuta però il suo mantenimento nello status di percettore del reddito di cittadinanza diventa un po' più arduo nel senso che rischia di perderlo. È una maniera per convogliare molte energie verso la produzione, verso l'economia e verso l'interesse collettivo. Diciamo che il reddito di cittadinanza in questa fase aiuta perché è una fase di grande crisi economica la pandemia ha messo a dura prova gli equilibri economici del Paese però è chiaro a tutti che non possiamo proseguire in questa maniera perché si dà un indirizzo culturalmente sbagliato in molti casi che rischia di costare caro.